Le assemblee dei cittadini sono, secondo me, un nuovo strumento che si sta sviluppando in tutta Europa e anche in Italia, perché adesso ce l'abbiamo anche a Bologna e Milano, fondamentale per dare voce ai cittadini e per rinnovare la democrazia. Per dare voce ai cittadini, perché la democrazia rappresentativa non rappresenta più i cittadini, come dovrebbe essere, e c'è bisogno invece della partecipazione di tutti i cittadini alle scelte importanti che si devono fare in questo periodo.